Ciao meraviglia! Io mi sono questionata, in un vero senso della parola, cioè guardate, non so se rendete idea, ma in questo paradiso terrestre mi sono messa come una lucerta dal sole e non mi sono messa la protezione. Voi non fate come me, mi raccomando, soprattutto al primo sole mettetevi la crema, che è importante. Io sono un disastro, ne combino sempre. Ma urla era un pochino stasera dopo la doccia. Ragazzi, noi qui siamo in preparazione, guardate il capello, bellissimi. Peraltro la cosa più importante è che abbiamo utilizzato questa qui, in modo tale per dare un po' di volume al capello. Poi abbiamo utilizzato tutti qui, l'abbiamo utilizzato insieme. E poi di nuovo perla in videochiamata con Mirko, molto meno glamour, invece Samira per il suo photoshoot è tiratissima e è di una bellezza impressionante. Chiudiamo invece con Vittorio, vi lascio un bacione ciao. Grazie. Grazie.